vediamo un pochino se ci siamo tutti ecco il buon arbin che è arrivato ciao arbin buonasera ciao anna come sempre vi chiedo se si sente si vede bene se ci sono problemi di audio di video ecco maria ciao felice buonasera viviana ciao ottimo arbin grazie per la conferma per la qualità audio video è un po' basso l'audio vediamo un pochino se posso fare qualcosa a livello più di questo mi sa che non posso fare però no c'è anche un problema le linee perché non so se sentite ma diciamo così c'è un temporale quindi la connessione può anche andare a venire ciao maria allora in attesa se casome ci sono problemi di linea o di audio di video fatemelo sapere io intanto comincio così comincio con il ringraziarvi ok grazie anna comincio con il ringraziarvi come sempre per il supporto che state dando ai miei lavori perché sia per il cristi legittimo soprattutto per il cristianesimo un'invenzione di san paolo che è il mio primo lavoro e ancora oggi sto vedendo che insomma il libro è andato in esaurimento su amazon quindi vi ringrazio tantissimo perché siete veramente gentili siete veramente tanti che supportate ancora il mio lavoro dopo addirittura due anni perché mi sembra che il 21 novembre del 2016 sia uscito il mio primo libro quindi vi ringrazio volevo ricordarvi anche se non l'avete già fatto in uscita in questi giorni il nuovo libro di Moro Biglini insieme a Massimo Barbetta che è Le porte degli Elohim e Ito da un editori che è un libro estremamente affascinante un libro veramente pregevole molto 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 scritto scritto molto bene ed è estremamente interessante perché aprirà le porte squadre così il gioco di parole aprirà le porte a degli scenari interessantissimi che verranno poi analizzati anche nel corso del 2019 perché così come lo stesso Mauro ha detto nelle ultime conferenze che ha fatto nel 2019 comunque gli studi che stiamo compiendo in tutti questi anni entreranno in scenari veramente interessanti e veramente particolari da parte mia come ben sapete verrà pubblicato al maggio del 2019 un libro scritto a quattro mani insieme all'amico Mauro Biglino edito sempre da un editori dei semi dei il pantheon dell'antico e del nuovo testamento e diciamo quel libro tra poco ne parleremo darà un giusto contributo un piccolo contributo a quello che sarà poi un ripeto uno studio molto approfondito molto più grande che poi vedrete diciamo così via via svilupparsi nel corso del 2019 vediamo se è arrivato qualcun altro certo c'è la maglietta è vero Maria Duanni che mi sopportate eh ma magari saranno anche di più eh allora in attesa di degli altri ritardatari dei soliti cominciamo un pochino a introdurre la questione del libro in uscita nel 2018 perché si collegherà in uno o nell'altro a ciò che a ciò che diremo stasera l'argomento di stasera è il Cristo e la resurrezione nell'ambito pagano cioè quindi come è stato poi introdotto il Cristo e la resurrezione di Paolo poi diciamo che in caso mai dopo possiamo anche fare una sorta di eh riassunto delle buone precedenti per capire come mai siamo arrivati a questo punto ehm però il Cristo e la resurrezione di Paolo nel mondo pagano quindi nel nostro caso nel mondo latino ellenista perché il perché questo argomento si collega al libro in uscita a maggio eh per un semplice motivo ehm perché l'idea del del Cristo così come Paolo va introdotta doveva essere doveva rispondere a determinate caratteristiche che potevano essere riconosciute soltanto da dalle persone che facevano parte quindi di quell'ambiente pagano quindi di quell'ambiente culturale latino ellenista eh a cui si affacciavano comunque i Vangeli e a cui lo stesso Paolo si affacciava perché il libro dei semidei in uscita a maggio è importante sotto questo punto di vista perché analizza quel tipo di figura che è appunto quella del del Cristo e della resurrezione comunque diciamo così del Gesù dei Vangeli facendo finta che quindi con la metodologia a cui Mauro ci ha sempre abituati facendo finta che i testi a nostra disposizione quindi in questo caso lettere di Paolo e i Vangeli dicono effettivamente la verità e ovviamente e questo è una cosa estremamente importante è una cosa che sottolineano fortissimamente ma l'ho sottolineato anche nel caso per esempio del mio secondo libro Il Cristo illegittimo è estremamente importante la conoscenza del contesto quindi sì è vero è importante saper leggere dover leggere letteralmente il testo così come c'è arrivato a noi ma sempre con la conoscenza del contesto perché altrimenti la sola lettera dei testi può essere fuorviante insomma ci può fregare facilmente la finalità del libro in uscita a maggio è soprattutto una cioè quella di rispondere a quelle che sono state le domande tutti questi anni sulla continuità con l'Antico Testamento mi spiego meglio per chi ha seguito Mauro tutti questi anni conosce benissimo la sua metodologia ripeto quella del facciamo finta che e conosce bene quelle che sono state le sue conclusioni e quelle che sono anche le sue nuove conclusioni però sempre nell'ambito anticotestamentario le persone hanno sempre dovuto chiedere ovviamente a Mauro se vi era una continuità effettivamente nel Nuovo Testamento alcuni cenni sono stati dati in questi anni per chi ha letto per esempio Antico e Nuovo Testamento Libi senza Dio oppure per esempio anche la cauta degli Dei dove c'è un mio ampio contributo sulla figura del Gesù come possibile semidio cosa che però ovviamente verrà ampliata di moltissimo a maggio e poi casomai ne parleremo più tardi però rimanendo ovviamente sempre in caratteri fortemente generali nel libro invece uscita a maggio continueremo con questo fare finta che ovviamente nell'ambito del Nuovo Testamento quindi capire esattamente in che ruolo gioca Gesù e se effettivamente la figura divina che gli è stata caricata sopra ha ragione d'essere si percorrerà quindi una strada che è parallela alla strada percorsa con il Cristo Legittimo e mi spiego meglio se con il Cristo Legittimo quindi il mio secondo lavoro si è si è percorsa la strada della ricerca storica così come è conosciuta noi oggi così come la conosciamo noi oggi cioè quella della ricerca storica classica quindi secondo metodologie specifiche che sono diciamo così classiche rituali e si è avuta quindi un'immagine del Gesù storico che era fortissimamente umana delegittimata come ben sapete quindi come abbiamo visto per esempio in due puntate fa della rubrica in principio quindi un Gesù che ha subito pesanti delegittimazioni quindi ciò che è narrato nei Vangeli nel corso per esempio della sua nascita nel corso della sua morte e resurrezione si sono create quelle storie magari per coprire degli scandali che al tempo di Gesù erano ben evidenti e quindi per legittimarlo nuovamente a quella che era la società pagana con i libri in uscita a Maggi invece ripeto faremo finta che invece quelle storie siano effettivamente vere ciò va a negare quello che si è fatto con il mio secondo lavoro con il Cristo legittimo secondo me no perché ripeto sono due strade parallele sono due strade legittime sono due strade che secondo me la cosa più importante è pongono domande e quindi tendono a portare domande e quindi si vedrà poi sarà poi lettore sarà poi la ricerca e continuerà a capire esattamente quali due strade sono effettivamente vere quindi se effettivamente le storie che noi abbiamo letto nei Vangeli o nel Nuovo Testamento sono state costruite gran parte a tavolino per ridare legittimità a quella figura sconfitta che è Gesù e la storia oppure se quelle storie sono effettivamente vere quindi se effettivamente esiste una continuità certa con l'Antico Testamento secondo la metodologia del facciamo finta che e quindi abbiamo una storia anche in questo caso molto interessante che porta ad una conclusione che sia la strada della storiografia ufficiale tra virgolette cioè quello secondo metodologia ufficiale sia secondo metodologia del facciamo finta che la conclusione che ne esce comunque è sempre solo una cioè viene viene smentito quello che è il dato tradizionale cioè quello che è il dato che noi conosciamo noi oggi quindi abbiamo una storia in un modo o nell'altro comunque da riscrivere tornando al al senso della puntata di stasera quindi il Cristo della risoluzione del mondo pagano cosa abbiamo visto nelle puntate precedenti nelle puntate precedenti abbiamo visto quindi la formazione dell'identità ebraica nella prima puntata nella seconda abbiamo visto quindi in che modo si operati con la simbologia all'interno del contesto biblico e quindi con quella che è la quelle che sono diciamo così gli ambiti metaforici della Bibbia abbiamo visto due autori in forte contraposizione in qualche modo cioè Fionno d'Alessandria e Paolo abbiamo visto che Filone ha utilizzato il simbolismo biblico per poter salvaguardare comunque quella che era la sua cultura quindi la cultura ebraica che veniva piano piano soppiantata dall'ellenismo mentre per Paolo abbiamo visto che quella che quell'utilizzo simbolico della Bibbia era utile solamente per poter costruire un qualcosa di nuovo quella che poteva essere una religione una dottrina nuova in barba comunque all'Antico Testamento poi nella terza puntata abbiamo visto invece quello che era come abbiamo già detto il Cristo illegittimo cioè nel senso le delegittimazioni che Cristo della storia ha dovuto subire e nella scorsa puntata invece abbiamo visto quella che era la contrapposizione fra Paolinisti e Gesuani abbiamo visto quella che è stata la la vittoria tra virgolette di Paolo nel corso del tempo quindi a seguito alla distruzione di Gerusalemme e di quello che era il Cristo della resurrezione anche ultimamente quindi fino fino a oggi ho avuto delle discussioni che io comunque reputo interessanti io discuto senza motivo polemico secondo cui appunto Paolo non è stato il non solo il creatore il creatore del cristianesimo ma aveva delle idee sul Cristo che è una non divergente con quelli dei Gesuani cioè quindi con gli apostoli gerosolimitani abbiamo visto nella scorsa puntata che questo non era possibile ma lo ripetiamo ancora oggi cioè tutto parte dall'idea del Cristo l'idea del Cristo dei Gesuani era un'idea del Cristo puramente politica così come noi ben sappiamo anche dagli scritti per esempio del teologo del cardinale Jean Danielou il quale afferma appunto che le idee che aveva il possibile Gesu storico era un'idea vicina all'ambiente antiromano questo lo scrive ripeto in risposta al lavoro di Samuel Brandon Gesù e gli Zeloti nel 1968 mentre l'idea del Cristo di Paolo è un Cristo soteriologico cioè un Cristo salvifico il Cristo politico degli ebrei in qualche modo poteva incarnare una sorta di salvezza ma salvezza esclusivamente per il popolo ebraico questo non dimentichiamolo mai il Cristo e la resurrezione di Paolo invece incarna un'altra idea c'è una salvezza per tutti in funzione di che cosa? in funzione di un peccato di una colpa che noi possediamo fin dall'origine c'è fin dalla formazione dell'uomo cioè l'uomo in questo caso incarnato da Adamo ed Eva quindi da quelle figure di Adamo ed Eva attraverso la loro disubbidienza afferma Paolo hanno portato una colpa di tipo generazionale quindi hanno portato il male il peccato nel mondo una colpa che noi ci portiamo appunto dall'origine in questo caso un peccato originale o originario qual è la funzione del Cristo secondo Paolo? è una funzione puramente salvifica non solo ma Gesù attraverso quella che è stato il suo sacrificio sulla croce quindi quello che era un motivo politico diventato in questo caso motivo salvifico ci ha permesso di poter accedere a una salvezza puramente esclusiva esclusiva soltanto verso quelle persone che hanno la fede nella sua resurrezione perché si basa soprattutto su questo la dottrina paolina quindi la fede nella resurrezione attraverso questo si può accedere e si può quindi giungere a un premio oltre la vita che Paolo traduce con quella che è la resurrezione dei morti quindi con un nuovo status specifico che si ha soltanto nella fede della resurrezione del Cristo della resurrezione quindi quando il Cristo della resurrezione tornerà afferma Paolo quindi attraverso l'evento della parousia quindi del ritorno imminente del Cristo se si ha fede nella sua resurrezione si avrà quindi questo premio che è appunto la resurrezione dei morti qual è il problema? ecco c'entro un pochino la telecamera qual è il problema di tutto questo? il problema di tutto questo che sembra ripeto sembra andare contro quella che è ovviamente la credenza dei Gesuani perché i Gesuani cioè quindi i gerosolimitani gli apostoli della comunità di Gerusalemme avevano un'idea di Gesù un'idea di Gesù puramente umana avevano un'idea di un Messia sconfitto dovevano in qualche modo cominciare a reinterpretare quella sconfitta e noi effettivamente però non conosciamo quella che è stata la reinterpretazione effettiva dei Gesuani come abbiamo detto anche la scorsa volta tutto ciò che ci è rimasto dei Gesuani è quel grido quell'esortazione è quel maranatace è quel vieni Gesù è vieni scusate vieni signore ed è proprio un'esortazione ripeto quel vieni fai presto proprio perché dai Vangeli stessi è rimasto qualcosa che è appunto quella promessa di ritornare in quella stessa generazione ma ripeto dei Gesuani ci è rimasto soltanto questo quindi noi effettivamente non sappiamo in che modo abbiano effettivamente reinterpretato se casomai c'è stata una reinterpretazione quella cociente sconfitta Paolo invece l'ha reinterpretata e l'abbiamo visto in che modo il punto è questo se diciamo così l'idea del Gesù divino da parte di Paolo può avere un fondo di verità cioè nel senso Paolo si è basato su quella su quel maranatà quindi su quella tesa effettiva di un Gesù che doveva effettivamente ritornare nella generazione in quella generazione e quindi non far attendere così tanto le persone che lo attendevano quindi i suoi seguaci che lo stavano attendendo quell'idea divina in che modo poteva essere rimasta genuina l'aspetto salvifico era effettivamente tale cioè nel senso era una completa invenzione di Paolo oppure c'era effettivamente qualcosa di vero rimaniamo però soltanto adesso la figura del Gesù cioè del Gesù della resurrezione del Cristo della resurrezione Paolo dipinge come un essere prettamente divino e questa cosa rimane anche nei Vangeli perché questo? perché doveva incarnare quella figura doveva incarnare un una figura nuova che fosse familiare per l'ambiente ellenista latino del tempo quindi non solo una figura soteriologica che era ben conosciuta nell'ambiente culturale del tempo e da qui la conoscenza del contesto di cui sopra ma in questo caso doveva incarnare un personaggio quindi il Cristo di Paolo un personaggio che era ben conosciuto nel nel pubblico del tempo quindi non solo il pubblico basso ma il pubblico alto quello aristocratico e quindi un Gesù divino in questo caso un Gesù semidio e questa una delle tesi che verranno portate avanti nel libro Unuscita a maggio quindi un Gesù che aveva sì una carica divina ma una carica divina che ovviamente è diversa dalla tradizione che noi conosciamo oggi perché se noi seguiamo la tradizione odierna quindi se noi per esempio per chi ha avuto una formazione cattolica si ricorda quello che è stata per esempio la formazione che ha avuto da bambino o anche da adolescente ci è sempre stato detto che il Gesù divino è sempre stato tale anche se come seconda persona della divinità ma comunque un Gesù pienamente divino peccato che però nell'analisi che si fanno delle lettere paoline ovviamente poi nel libro si entra molto di più nello specifico analizzando quelli che sono i termini greci anche originali si capisce che il Gesù che Paolo introduce cioè il Cristo e la resurrezione che Paolo introduce è un semidio in piena regola quindi non un Dio completo e questa cosa è ribadita anche nei Vangeli in quello che è la e siamo anche nel periodo perché diciamo così la festa dell'Immacolata è passata da poco in quello che è la cornice narrativa dell'Annunciazione cioè quindi di quel Gabriele quindi Gabriele che visita una giovane ragazza vergine che è appunto Maria questa cornice narrativa quindi di un essere divino che incontra una giovane ragazza vergine trova estrema coerenza nell'ambiente culturale pagano del tempo quando appunto gli dèi cioè gli esseri celesti visitavano o giovani ragazze vergini o anche per esempio uomini e si univano a loro e quest'unione portava quindi alla nascita di quelli che sono appunto i semidei ecco perché il titolo in questo senso cioè far comprendere al lettore come anche nell'ambiente nei primi ambienti cristiani quindi a partire da Paolo fino ad arrivare alla prima patristica quindi in questo caso i primi padri della chiesa i primi epologeti cristiani come per esempio Aristide di Atene Teofilo d'Antiochia Giustino Martire e così via vi fosse un'idea di un Gesù non completamente divino tra poco vedremo che evoluzione c'è stata ma un semidio che era all'interno del pantheon specifico e poi vedremo tra poco in che modo vediamo se ci sono intanto delle domande ciao Canawake buonasera Fabrizio allora se ci sono domande scrivete pure buonasera Stefano Casu allora Viviana Quattrocchi scrive beh Zeus ne faceva di ogni scendendo all'Olimpo soprattutto con le donne umane sì appunto nel libro oltretutto in uscita a maggio prenderò in esame molto la storia di Ercole perché come ho scritto anche l'altra volta rispondendo se non ricordo male Enrico Ballerini che mi chiedeva qual era il paragone che si poteva fare fra Gesù e una figura semidivina del tempo cioè quindi qual era quel semidio che più si avvicinava a Gesù io ho risposto che è proprio Ercole se voi vedete e leggete l'intera storia di Ercole ci sono moltissime posizioni quindi moltissime scusate moltissimi riferimenti alla storia di Gesù cioè di Gesù che ne conosciamo noi oggi a partire dalla nascita fino alla morte non dico altro perché poi ripeto a maggio entrerò molto nello specifico su questo oltretutto prima in attesa di altre domande oltretutto questa discesa degli esseri divini verso ovviamente gli uomini o donne comunque in generale era una cosa questa che non faceva parte soltanto dell'ambiente pagano culturale pagano ma era una cosa che faceva parte anche nell'ambiente semitico basti pensare a Genesi 6 a Genesi 6 e a la letteratura enochica che poi ne è conseguita poi successivamente Genesi 6 lo ricordiamo no? i figli di Dio che vengono poi riconosciuti come angeli però diciamo parliamo soltanto dei figli di Dio cioè i figli degli Elohim cioè che sono i Benea Elohim sceso sulla terra e videro che le figlie degli uomini erano belle cioè tovot appetibili e si unirono con loro generando quelli che erano i Kiborim cioè gli uomini forti gli uomini potenti gli uomini famosi e in cui lo stesso testo poi biblico dice sono questi i famosi eroi dell'antichità cioè quindi anche il testo biblico non nasconde l'origine e l'identificazione di questi personaggi la letteratura enochica che si basa molto sulla su Genesi 6 quindi sulla rilettura di Genesi 6 va oltre cioè vede in quelli unioni la nascita dei cosiddetti titani cioè nel senso di quei giganti e i titani per chi in qualche modo mastica un po' di mitologia greca sa bene cosa sono cioè sa bene chi sono quei personaggi quindi come vedete ci sono delle diciamo così dei parallelismi interessanti tra ellenismo e giudaismo parallelismi che metto molto in evidenza ovviamente con il libro in uscita a maggio avevo letto un'altra domanda Anna Petta chiede quindi secondo quello che dice Gesù era un semidio alla pari di Ercole per quanto riguarda la natura sì cioè nel senso noi sappiamo che Ercole era il frutto e l'unione di un dio in questo caso Zeus con una donna in questo caso Alcmena e oltretutto come altra piccola anticipazione nonostante l'unione con un dio Alcmena era accusata di essere una donna adultera guarda caso la stessa accusa che è rivolta a Maria sia nei Vangeli in maniera ovviamente molto sottaciuta e per chi ha letto il libro Il Cristo illegittimo so di cosa sto parlando ma anche nel secondo secolo per esempio con il filosofo medio-protonico Celso il quale appunto afferma che Maria era una propria di buono cioè una donna adultera e che aveva avuto Gesù al di fuori del matrimonio sebbene comunque Celso identifichi il vero padre di Gesù con un soldato romano di nome Pantera Maria Coco Mitra anche lui un semidio sì Mitra più che un semidio Mitra era un dio in piena regola poi successivamente comunque sì siamo lì ma basti pensare anche in qualche modo ad Apollono di Tiana anche lui è riconducibile alla figura di Gesù anche perché era un personaggio che era vissuto nello stesso periodo già dal secondo secolo in molti i padri della Chiesa avevano paura di questa contaminazione cioè di questo secondo Gesù tra virgolette in questo caso Apollonio che ricalcava grossomodo molto del personaggio del Cristo Viviana Quattrocchi mi chiede e i miracoli di Gesù come li contestualizzi in questo discorso di semidio semplicemente come opere di un potente guaritore perché basti vedere basti prendere i primi Vangeli in questo caso la lettera di Marco la lettera sì il Vangelo di Marco e il Vangelo di Giovanni alcune guarigioni sono cambiano repentinamente il cieco nato o comunque la persona che non vede Gesù deve impastare del fang usare della saliva e metterla sugli occhi di questa persona che dice di non vedere questa persona afferma dopo il primo intervento di Gesù di vedere soltanto le figure sbiadite Gesù deve intervenire una seconda volta e solo la seconda volta questo personaggio vede negli altri Vangeli invece Gesù afferma io dico che tu adesso puoi vedere i tuoi peccati sono rimessi e quella persona incredibilmente ci vede quindi come vedete anche i miracoli subiscono dei cambiamenti repentini ovviamente a seconda del passare del tempo e in questo caso con per esempio con il la decontestualizzazione e le ricontestualizzazioni del testo ciao Roberta allora se non c'è un'altra domanda vado avanti ditemi voi perché se non c'è un'altra domanda ok vabbè io intanto continuo a parlare casomai poi le domande le recupero allora stiamo parlando prima dell'annunciazione quindi in questo caso della visita di un essere divino che incontra una giovane ragazzi in questo caso l'intero contesto narrativo dell'annunciazione come oggetto prima si sposa perfettamente con i tanti contesti narrativi che l'ambiente pagano in questo caso quindi l'ambiente culturale latino-ellenista ben conosceva cosa ci offre Luca lo vedremo tra poco vediamo l'evoluzione che c'è stata nel corso del tempo Paolo in qualche modo sono i primi documenti cristiani riconosciuti accenna la cosa ovviamente non dico altro perché non solo il diciamo così l'intero contesto epistolare di Paolino è davvero ampio ne parlo diffusamente nel mio libro quindi non voglio anticipare certi tipi di argomenti però diciamo che Paolo ne parla e ovviamente per presentare in maniera estremamente coerente Gesù e lo fa secondo un principio specifico come abbiamo detto prima presentandolo come un nuovo Adamo e lo fa anche secondo quelle che sono proprio delle analogie specifiche anche nella formazione stessa di Gesù analogie con la formazione di Adamo non dico altro poi abbiamo il Vangelo di Marco il Vangelo di Marco sostanzialmente non parla della nascita di Gesù e penso non lo faccia per un semplice motivo perché appunto su Gesù gravava un'accusa di illegittimità cioè quindi Maria come poco di buono a Gesù come figlio illegittimo quindi non c'era motivo di parlare della nascita di Gesù e come ho detto come ho scritto nel Cristo illegittimo Matteo e Luca parlano della natività magari per censurare forse questa nascita illegittima se invece facciamo finta che i testi che a nostra disposizione ci dicono effettivamente il vero allora abbiamo due informazioni quindi da parte di Matteo e da parte di Luca che ci possono offrire delle considerazioni interessanti Matteo non entra molto nello specifico affermando soltanto che Maria ha concepito però per lo Spirito Santo con Giuseppe che grossomodo accetta questa conclusione diciamo così e poi invece abbiamo il contesto lucano in cui Luca entra molto nello specifico della natività ci narra proprio l'incontro di quest'essere divino di questo angelo di questo messaggero con Maria ricordiamo sempre una cosa Gabriele non era un nome di persona quindi in quel caso non esercitava un nome di persona perché nel contesto semitico il Gabriele è un nome puramente funzionale quindi colui che sta esercitando in quel momento il potere per conto di un El quindi era un portaordine un messaggero in piena regola che esercitava quindi l'esercizio del potere scusate il gioco di parole per conto di un El quindi di un Dio e poi abbiamo appunto la giovane Maria secondo Luca Maria era già sposata ovviamente ancora non si era unita nessun uomo e incontra quindi quest'essere celeste nel testo quindi basta leggere il testo così come non lo vediamo Maria è molto turbata a seguito delle parole dell'angelo quindi quel ave piena di grazia come ben sapete quell'ave piena di grazia nel originale greco quindi quel caere che caritomene significa tutt'altro perché appunto quel che caritomene che è un particivo passivo perfetto del verbo caritò ha una funzione più estetica cioè nel senso diciamo così rispecchia più pregi estetici che morali quindi più che piena di grazia è quel grazia che si ha è più un essere graziosa quindi essere bella esteticamente quindi diciamo che il Gabriele arrivando da Maria ha apprezzato quello che era il suo aspetto fisico e ciò quindi ha turbato effettivamente quella che era una ragazza di 15-16 anni che si era appena sposata e che ancora non conosceva nessun uomo e poi sappiamo che Gabriele in quel contesto afferma che Maria avrebbe concepito però per lo Spirito Santo non solo però Luca entra ancora di più nello specifico come ben sappiamo affermando che lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra quelle che possono sembrare due personaggi distinti quindi lo Spirito Santo e la potenza dell'Altissimo in realtà e lo vedremo poi lo si vedrà successivamente poi entriamo ancora di più nello specifico nelle prossime puntate rispecchi invece lo stesso personaggio perché come già ben sappiamo dagli studi del cardinale del teologo Danielu studi presenti nell'edizione di Unione Bologna la teologia del giudo cristianesimo lo Spirito Santo non era altri che è il Gabriele Antico Testamentario cioè è lo stesso cardinale che fa questa identificazione ovviamente prendendo dei testi sia dell'ambiente dell'Antico Testamento ma sia del Nuovo ovviamente testi anche non canonici che però erano validi nel tempo quindi nei primi secoli cristiani erano del tutto validi in cui appunto il cosiddetto Angelo Spirito Santo è incarnato proprio da Gabriele e quindi il Danielu dice proprio questo cioè nel senso dice che soprattutto nell'episodio dell'infanzia di Gesù quindi soprattutto nell'episodio della nascita di Gesù questa identificazione non solo è necessaria ma è obbligatoria quindi da quello che noi ben sappiamo da queste informazioni che ci vengono aggiunte sappiamo quindi che in quel momento lo Spirito Santo è incarnato da Gabriele il punto è questo e cioè che in un modo e nell'altro Gabriele è lo Spirito Santo quindi se lo Spirito Santo è colui che ha permesso il concepimento di Gesù dobbiamo dire che Gabriele quindi quello che unisce l'Antico Testamento c'è un uomo ha portato al concepimento quindi di Gesù e in questo caso ripeto la cornice narrativa dell'intero contesto evangelico si sposa perfettamente con la cornice narrativa del mondo pagano in cui un essere divino in questo caso un uomo divino si unisce con una donna vergine partorendo quello che è un semidio in piena regola la qualifica di semidio e poi concludo e vedo se c'erano altre domande la qualifica di semidio non è una mia invenzione ma è ciò che dice per esempio un teologo per esempio con William Muller uno dei tanti quindi della scuola comparata di storia delle religioni quindi una scuola dello scorso secolo in cui appunto affermava che secondo quella che era la dottrina paolina e secondo quella che Paolo aveva incarnato all'interno della sua dottrina all'interno del suo epistole era un Cristo dell'esurrezione che era completamente intercalato nel contesto ellenista è che ben diciamo così recitava la parte di un semidio in piena regola poi vediamo se riesco a trovare il testo specifico però ripeto la qualifica di semidio non è una cosa che mi sono inventato io ma è una cosa che alcuni teologi hanno evidenziato nello scorso secolo è da qui che poi ovviamente la mia indagine è partita e che ha trovato estrema coerenza ovviamente non solo con il panorama evangelico ma con le tante storie che il contesto latino ellenista del tempo possedeva e che guarda a caso trova tanti parallelismi con le storie che il racconto evangelico in questo caso il racconto lucano ci fornisce vediamo se ci sono altre domande Arby Mustafi chiede ciao Michela quindi la Trinità è formata da padre Cristo e Gabriele no diciamo che la Trinità caro Arby non neanche esisteva ai tempi di Paolo la Trinità è un concetto che era completamente distaccato completamente inesistente anche nell'ambiente cristiano ellenista del primo secolo un primo concetto trinitario sia soltanto con una evoluzione di stampo puramente filosofico nella prima patristica quindi nella prima apologetica a partire per esempio da Teofilo di Antiochia ma poi successivamente anche con Indeneo quando dal Dio inconoscibile vi è poi la successione del Logos il Logos Filoniano in questo caso e dal Logos Filoniano poi si arriva alla terza potenza che in questo caso è la Sapienza Roberto chiede quindi lo spirito santo non è spirito ma è carne e ossa sì in questo caso sì in questo caso vediamo un po' scrittore De Angelis no 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 assolutamente no le conclusioni mie e quelle di De Angelis sono molto divergenti su questo ma su molte altre cose i De Angelis affermano che Gesù sia morto durante la guerra giudaica io non dico questo Michela Brandolini mi chiede ci sono le affinità tra la Timurta indiana e quella cristiana diciamo che un'idea trinitaria è sempre esistita cioè nel senso tre persone divine che avevano un loro potere così come i dodici divinità avevano un diciamo così un un loro raffronto all'interno di un pantheon quindi sì ci possono essere le affinità così anche come nel mondo egizio così come esistevano per esempio Settra e Horus quindi tre divinità che governavano anche nel mondo greco quindi queste tre persone divine sono sempre esistite non dimentichiamo Francesco Antoni scrive non dimentichiamo lo spirito il sangue e l'acqua di Giovanni poi cambiato nei termini trinitari che conosciamo sì sì anche questo sì è una anche questa è un'interpretazione ecco non vorrei che si stacchi la linea perché il tempo non è dei migliori più che altro mi attesa di altre domande più che altro è l'evoluzione che c'è stata nel corso dei secoli ma nel corso anche di un diciamo che di un secolo e mezzo tra il Gesù semidio e quindi descritto dai Vangeli e ribadito anche da Giustino in qualche modo quindi il Gesù che incarna il Logos così come Logos era Ermete figlio di Zeus e successivamente appunto il Logos di Filoniano incarnato poi da Gesù secondo quella che è la dottrina invece più di origine e di Clemente Alessandrino quindi della scuola Alessandrina Cristiana che era molto molto addentro alla filosofia e che utilizzava quindi le categorie filosofiche e anche le categorie in parte gnostiche ovviamente per combatterle per riformulare l'idea di Gesù quindi in questo caso il concetto trinitario rientra anche in questo quindi un Gesù che diventa puro Logos quindi pura potenza divina e gli viene accostata in questo caso la Sapienza che è anche in quel caso potenza divina del D'Inconoscibile successivamente poi la Sapienza diventerà appunto lo Spirito in quanto lo Spirito appunto in ebraico è femminile quindi doveva esserci un corrispettivo quindi vedete la trasformazione che poi c'è stata da Spirito Santo esattamente cioè da Spirito Santo che incarnava invece un maschio in questo caso un Issh a la Sapienza che invece era tutto femminile viene accelto altre domande ma per ora no diciamo che in ambiente pagano in attesa che scrivete qualcos'altro magari vada le conclusioni e poi vediamo se c'è un'altra curiosità in ambiente puramente pagano la filosofia ha giocato un ruolo determinante nella costruzione del cristianesimo per un semplice motivo c'è per un motivo molto 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 semplice c'è nel senso che nella battaglia culturale che i primi cristiani dovettero poi in qualche modo combattere la validità della dottrina era importante quindi dei primi cristiani che facevano parte quindi circoli filosofici quindi pensiamo ai primi padri della chiesa quindi parliamo della prima metà del secondo secolo in poi l'uso della filosofia divenne sapienziale perché appunto l'uso della filosofia e delle categorie filosofiche divennero fondamentali per poter fissare dei canoni a quella dottrina quindi dare validità anche a quella figura che in quel momento sì era presentata come un semidio ma era un semidio fra tanti quindi qual era la validità che si doveva dare a quel semidio specifico era appunto una un'antichità derivante dalle sacre scritture in questo caso le scritture ebraiche e nel caso della filosofia greca una sorta di dottrina che in questo caso è chiamata logos spermaticos cioè il logos seminale della dottrina stoica rivista ovviamente dai padri della chiesa a partire da Giustino secondo cui tutti i filosofi avevano fatto esperienza del Cristo nella loro dottrina in maniera anche imperfetta e in questo caso quindi il Cristo incarnava perfettamente un'antichità che nessun Dio ovviamente poteva vantare tutti hanno fatto esperienza del Cristo profeti e filosofi ma soltanto i veri cristiani in questo caso i cristiani apologeti a partire ovviamente secondo loro dagli apostoli hanno fatto esperienza di quello che era il principio primo derivante dal Dio il principio primo comunque la prima potenza in questo caso il logos derivante dal Dio inconoscibile dei filosofi allora quali mai non si siano non siano riferimenti di Gesù in veste di capo di belle con altri combattimenti in prima persona a parte quello del ribaltamento del tavolo vabbè ci sono alcuni alcuni riferimenti minimi per esempio il Gesù che chiede delle spade oppure il Gesù che per esempio lancia gli anatemi verso quelle città che non accettano la sua dottrina quindi dei riferimenti comunque ci sono Samuel Jornon chiede ciao ma escludi la possibilità che Gabriele abbia fatto su Maria un intervento di inseminazione artificiale in questo caso il concetto di verginità al momento del concebimento potrebbe essere reale a questo non lo so questo non lo so come descriverò nel libro di maggio la successione degli eventi descritti da Luca secondo quelli che sono i termini greci originali è una successione di un corpo vero e proprio che va su un altro corpo in questo caso il corpo di Maria che viene adombrato adombrato quindi che fa che viene adombrato quindi da qualcosa in questo caso il corpo della potenza dell'altissimo che sta compiendo qualcosa su di lei poi non sappiamo esattamente quello che sta effettivamente compiendo a voi a voi la fantasia più disparata però secondo me secondo me la diciamo così la la scena è abbastanza chiara però ripeto poi nel libro entro molto nello specifico e analizzo parola per parola i termini greci originali e faccio vedere quella che è la concretezza anche in quel caso dell'azione secondo me per il look originale la descrizione a mio parere di un vero e proprio atto sessuale tra un esser divino e una giovane ragazza non era da escludere perché incarnava appunto quelle che erano delle cornici narrative ben conosciute al tempo cioè di un dio che si unisce ad un uomo o ad una donna in questo caso vediamo che c'è un'altra domanda il concetto di un semidio che si sacrifica per l'umanità per un motivo o per un altro è frutto del paganesimo chiede Arbin sì non esisteva nel giudaismo l'idea di un personaggio che gli sacrificava per tutta l'umanità è un concetto che è nato sì in ambiente in ambiente puramente pagano ma ripeto da quello che mi risulta è è un concetto religioso soprattutto quindi di un di una figura che doveva in qualche modo salvare l'umanità da un suo stato imperfetto la nascita è miracolosa di Gesù nato da una vergine non è una storia già sentita in ambito pagano come mai questa deve essere quella vera chiede Maria Coco semplicemente perché è quella che si è affermata molte volte si dice la verità è diventata mito e il mito è diventato leggenda questo purtroppo è successo per le storie forse per le storie che noi oggi definiamo miti greci i miti greci noi oggi definiamo tali e anche leggende però ci sono molti scrittori per esempio dell'antichità di cui farò menzione ovviamente nel libro di maggio i quali affermano che semplicemente i filosofi hanno rivisto quelle storie per reinterpretarle e quindi all'antichità erano consigliate storie vere stessa cosa accoda con noi con i teologi una successione teologica degli eventi ha portato a una mistificazione in questo caso una mitizzazione ulteriore di quelle storie classiche che facevano parte dei miti greci che magari i miti non erano liberale parrotta chiede quali possono essere le nazioni in cui Gesù si è spostato Gesù è sempre rimasto in territorio ebraico non si è mai spostato persino quella storia che vuole quel Gesù in India magari si rifà un'altra storia però ne abbiamo già parlato c'è un'altra domanda Enzo Maffei chiede ma se la remissione dei peccati avveniva col battesimo di Giovanni il battezzatore che necessità c'era del sacrificio del presunto figlio di Dio semplicemente perché secondo dottrina paulina che ovviamente si voleva distaccare anche da quel battesimo di conversione di Giovanni puramente giovanè ovviamente perché il battesimo per Paolo era tutta altra cosa Gesù incarnava l'agnello sacrificale definitivo quindi non c'era neanche bisogno del tempio quindi la funzione sacrificale di Gesù era quella cioè era quel capro espiatorio in questo caso ultimo e finale attraverso quindi quel suo sacrificio di espiezione ci avrebbe salvato dei peccati così come ogni volta si sacrificava l'agnello per poter aiutare quindi per poter lavare dei peccati le persone che andavano a sacrificare nel tempio in questo caso allora se non ci sono altre domande vado con le conclusioni altrimenti continuiamo un altro poco abbiamo ancora circa dieci minuti anche perché non voglio rischiare che la linea possa saltare allora se avete altre domande scrivete Lucia lazzaretti è entrata ciao Lucia allora intanto vado con le conclusioni e poi se ci sono altre domande risponde e poi concludo rispondendo allora abbiamo visto stasera e l'abbiamo fatto attraverso una prima introduzione quello che era una prima idea di Gesù ovviamente Gesù divino all'interno del panorama pagano all'interno del panorama pagano abbiamo visto che Gesù doveva incarnare un certo tipo di figura in questo caso la figura di un semidio che stava piano piano incarnando una figura di semidio puramente tradizionale abbiamo visto quindi che Paolo lo ha caricato di una figura in questo caso la figura del soterro quindi la figura salvifica puramente salvifica di altri semidei che comunque erano ben conosciuti nel panorama pagano e poi abbiamo visto che nel contesto puramente evangelico in questo caso del Vangelo di Luca vi era la cornice narrativa in questo caso della visita di Gabriele a Maria in questo caso è un primo passo perché poi ne vedremo altri perché poi nel libro verranno analizzate ben altre situazioni all'interno dei Vangeli e non solo in cui appunto un essere divino incontra una giovane ragazza questo è il primo passo fu il primo passo per identificare Gesù come un semidio all'interno del Pantheon era il primo passo necessario per poter dargli una legittimità almeno da un punto di vista puramente culturale quindi per farsi accettare da un punto di vista puramente culturale verso quei circoli anche aristocratici che ben conoscevano comunque le dottrine del tempo in questo caso latino ellenistiche quindi per poter dare una legittimità a quella figura era estremamente importante presentarla in questo modo ora questa cosa va a negare un Gesù storico delegittimato e quindi che quindi sia stato sconfitto politicamente a mio parere no secondo me un Gesù combattente e allo stesso tempo semidio è perfettamente coerente proprio perché all'interno del panorama latino ellenistico i semidei erano attivi anche politicamente basti pensare come combattevano negli eserciti basti pensare come arringavano gli stessi eserciti pensiamo per esempio a Poseidone che arringa i greci contro i troiani ma gli esempi possono essere innumerevoli quindi un Gesù che è attivo politicamente che quindi combatte che quindi allo stesso tempo incarna una figura divina in questo caso incarna quello che è un semidio è perfettamente coerente in tutto quello che è il contesto culturale latino ellenista nella puntata successiva visto che ci avvicineremo poi sempre di più all'uscita del libro entreremo ancora di più nello specifico soprattutto per quanto riguarda i primi padri della chiesa quindi continueremo con la costruzione tra virgolette o comunque con svegliate anche definire la costruzione con la figura del semidio all'interno del mondo pagano in riferimento soprattutto ai padri della chiesa quindi rispondendo all'ultima domanda che è quella di Liberale Parrotta io vi lascio con la prossima puntata quindi col prossimo appuntamento che sarà tra gennaio e febbraio spero di farlo entro la fine di gennaio altrimenti per la prima metà di febbraio con la nuova puntata di In principio vi invito ad acquistare il libro di Massimo Barbetta e Mauro Billino nelle porte degli Elohim e vi ricordo anche che il 22 dicembre 23 dicembre verrà registrato una nuova puntata con Mauro Billino una nuova chiacchierata delle racconti dell'Antico Testamento quindi con me e con Mauro Billino vedetelo come un regalo di Natale comunque un regalo per queste feste Liberale Parrotta mi chiede come ultima domanda quanto c'entra Gesù con Yahweh non c'entra assolutamente niente secondo me perché Gesù parlava di un padre buono diciamo così un padre caritatevole e misericordioso che con Yahweh non c'entra assolutamente niente perché se noi leggiamo quello che faceva Yahweh nell'Antico Testamento che era un guerra fondaio che era uno che ordinava massacri e omicidi non c'entra assolutamente nulla Yahweh è stato trasformato nel Dio inconoscibile successivamente è appiccicato è appiccicato alla figura poi del padre di Gesù dai teologi successivi in questo caso del primo padre della Chiesa e via sempre andare avanti perché era importante definire Yahweh come il Dio inconoscibile in quanto era importante mantenere uno status di antichità che in questo caso era incarnato le scritture di Mosè e quindi l'Antico Testamento quindi non penso ci sia un altro da dire Lucia mi dispiace che sia arrivata sul finale però lo avevo anticipato già da giorni che la puntata di sera sarebbe durata soltanto un'ora quindi mi dispiace Viviana Quattroocchi mi ringrazia ringrazio anche lei grazie Anna per questi fiori virtuali Enrico Balle è arrivato anche lui in ritardo mi dispiace Enrico vedrà la puntata differita quindi vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi ha dato anche stasera spero che la prossima puntata possa durare di più però purtroppo stasera potrò fare soltanto un'ora mi dispiace ricordatevi il libro di Massimo Barbetta e Mauro Biglino Le porte agli Elohim domani sera quindi 11 dicembre 2018 per chi la vedrà indifferita ovviamente ci sarà anche una puntata su Eterna Verità con Andrea Leonardo che condurrà la puntata e saranno ospiti Massimo Barbetta e Mauro Biglino che parleranno del libro Le porte agli Elohim il 22-23 dicembre su questa pagina Spogliato Francesco Scrittore verrà pubblicata una nuova chiacchierata con Mauro Biglino quindi fra me e Mauro Biglino della rubrica Racconti dell'Antico Testamento e noi ci diamo appuntamento tra fine gennaio e metà febbraio con la nuova puntata della rubrica in principio intanto però comunque non preoccupatevi perché comunque c'erano nuove novità sul libro in uscita a maggio quindi vi ringrazio molto ringrazio ad Anna ringrazio a Maria ringrazio a Viviana ringrazio a tutti quanti e ci vediamo quindi la prossima volta buona serata a tutti ciao ciao grazie a tutti ciao 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 ciao